Grazi Superiore, la Valle Tidone, l'Alta Valle Tidone, provincia di Pavia, oggi è il 7 dicembre 2012, è mattino, pomeriggio nevicherà sicuramente, questo è un campo dove spontaneamente era prato fino a 10 anni fa e veniva tagliata l'erba, non è mai stata risseminata, qui ho portato le api e me le ha rubate, ora ho chiuso, ho recintato per proteggere le nuove essenze, ad esempio questo è un pioppo, nel piopeto si è formato da questa pianta madre, probabilmente, anche a monte, anche a monte si è formato il piopeto, ha diffuso le sue radici, perché molto probabilmente queste sono nate da radici e sono quasi dei cloni, penso, però magari sono nate da, non lo sono sicuro. Poi ci sono altre essenze, ad esempio, queste morte, lasciamola perdere, delle rose canine, rose rugose, rose canine, rose rugose, questo è il danno che fanno i cinghiali, o i caprioli, ma non si capisce, non ho ancora capito. Adesso ho chiuso perché se no le essenze riportate il danno comunque è anche nella pianta alta, non capisco se sono gli animali con le corna o che tirano giù la pianta, la grattano e si mangiano la corteccia. Mi sa che sono più i caprioli, però vabbè, chi se ne frega, comunque delle bestiole sono che fanno questi danni. La rosa canina, la macchinagapan.it, macchinagapan.it, vai nel sito. Purtroppo lì c'è un impianto dell'alta tensione che porta corrente anche a Praticchia. Ci troviamo sul confine fra la provincia di Pavia e Piacenza, perciò fra confine anche di due regioni. province non si sa che qualche fine faranno. Comunque, vota Antonio, vota Antonio la trippa. Fra poco ci saranno le elezioni e si candiderà anche Antonio la trippa. Voto Antonio, vota Antonio la trippa, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio la trippa, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio.